Siamo un po' in ritardo per una stagione di FIFA Con il Milan, o in generale, sì, con il FIFA 19 Un pochino fuori mano, però d'altra parte Un'ottima maniera di... Allora, come squadra abbiamo scelto... Abbiamo scelto? Io no, mi è stato imposto Sì, no, va bene, metti via quella pistola adesso Ok, dai, detto ciò, siamo un po' in ritardo per una stagione di FIFA Ma potremmo provare i nuovi giocatori acquistati dal Milan Esatto No, in realtà no Forse Paketà L'avranno aggiunto in questo FIFA? Sì, dai Pure ci sarà un tizio con una faccia anonima Che correrà in mezzo al campo La faccia di Kakà E si chiama Paketà Lo voglio, assolutamente Iniziamo con il Milan Bene Come lo chiamiamo questa volta il nostro supereroe? È una bella domanda Ma intanto scegliamo la faccia Ok Una faccia che ci ispiri fiducia e simpatia Ma io direi questo Quello in basso a destra mi piace Questo? Sì Ah no, ok Morgan Freeman? Non l'avevo mai fatto Morgan Freeman Dai, facciamo Morgan Freeman Ci sta E lo potremmo chiamare È molto attività al Milan Nel toto allenatore del Milan c'era anche Morgan Freeman Esattamente E avrebbe dato un netto colpo Il nome potrebbe essere Morgan Freeman Morgan Perché no? Ma con Freeman non mi piace tanto Mi piace pensare che Da quando si è trasferito al Milan Non si senta più così particolarmente libero Ok, allora Morgan Cagedman O Chainedman Direi di sì Cagedman O Cagedman Cagedman mi piace Fa molto attore di Hollywood Esatto Cagedman Esatto Perfetto Già avete capito che taglio daremo a questa stagione Taglio impegnatissimo Vogliamo vincere la Champions con il Milan A tutti i costi L'inglese L'iraniano O Morgan Cagedman Eh, oggi adesso non esagererei Cazacco Cazacco Dai, perfetto Il Cazacco o Morgan Cagedman Il tipico Cazacco Cazacco Vediamo Voi io vorrei un allenatore in tuta E tu me l'hai fatto Con camicia Io volevo tutta un allenatore Bravo Europa Europa No Disattivo No Disattiviamo Disattiviamo tutto il primo giro ragazzi Perché Dobbiamo avere tempo di Di familiarizzare con questa rosa Che abbiamo visto fare Cioè comportarsi discretamente bene In questo campionato Disattiviamo Un eufemismo Per non dire che ha fatto cacà Ti piace? Pa che età Esatto Siamo arrivati La squadra al Milan Nomina Cagedman Nuova dell'attore Mi piace A sorpresa A sorpresa Alla parte era in gabbia fino a ieri Quindi Mentre visse il Kobe Compra iniesta Ognuno il suo Ma c'è ancora Come giocatore Disponibile Iniesta Non mi dire che vuoi iniesta Eh Milan forse però Un po' troppo Per le ambizioni del Milan È vero Subito così Vogliono mandarci agli inviti Noi vogliamo i soldi Quindi dovremmo optare per questa Dovremmo andare per forza Su L'Ispagna Ma noi andiamo per forza Abbiamo una bella squadra Questa volta Ci crediamo Non lo so Doviamo ancora vederla In realtà Adesso lo scopriamo Ma noi siamo tifosi del Milan In realtà E quindi Sì è proprio per questo Diciamo che abbiamo una bella squadra Perché ci vogliamo credere Antonio Casadei Dice piacere Milan Sivilla Villareal Borussia Dortmund Un European International Cup Di lusso Esatto Sei pronto per vedere la rosa Voglio vedere soprattutto i generali Paketà 79 Allora C'è la Noglu Vediamo se ha la foto almeno Paketà No Nemmeno la foto Sono sprecati Sì Bakayoko Che sarà in prestito Che sì Mannaggia c'è Suso Piontech 79 Eh ci sta dai Potevano fargli almeno 80 Poverino Rodriguez Capitano Magnoli Musiacchio Calabria 78 Cicciolone Donnarumma Cutrone 77 Borini 76 Castiglieco Castiglieco 81 Raxad 78 Richard 82 Richard Abate 77 Caldara 80 Bigle 82 Buonaventura Grande È un zapatone Perfetto Prizzari Bertolacci Strinic Strinic Osè Maurio Con una foto Paolo Osè Una foto Osè Ok Cosa dici di questo modulo Ti piace Non ti piace Lo dobbiamo provare Ma Due ali Sicuramente Lo dobbiamo tenere Un po' il modulo Con cui siamo anche abituati A giocare Negli altri carriere Che off screen Non avete potuto Seguire Esatto Non avete potuto apprezzare Forse non abbiamo potuto Apprezzare molto Neanche noi Visto che nemmeno Siamo arrivati a vincere Mai una cupa europea Una cippa lippa Però vabbè Ma questa volta Ci rifaremo con il Milan L'obiettivo È quello dichiarato Di far bene in Champions E provare a vincerla Perché Vabbè Lasciamole così per ora Proviamo così Io sto ancora pensando A Strinic Che non avevo idea Che fosse al Milan Se dovessi basarmi Sulla realtà Li venderei tutti A me fa piacere saperlo Volevo vedere Chi è in prestito E chi non è in prestito Tra l'altro abbiamo Anche dei giocatori Nostri fuori Gianluigi Donnarumma ha il potenziale Per diventare un bambino speciale Probabile Antonio no Ha il potenziale Per diventare il fratello Di un bambino speciale Pepe Reina La faccia grande Pepe Pellizzari mostra Un ottimo potenziale Tutti quanti Calabria senza faccia È un'ottima promessa Ci assomiglia un po' però Ignazza Abate scade Fra 12 mesi Io passerai già a rinnovare Lo voglio rinnovare Sui Capitano Beh Capitano Abate Non si discute Sì dopo Li rinnoverai tutti Quelli a un anno Abbiamo visto che C'è bisogno Anche per venderli meglio Sì In qualsiasi sia La fine che vogliamo Far far loro Sì esatto Vediamo Ignazione Sì È un ciccione Perché abbiamo Un bambino Perché non l'hai voluto Mettere in tuta La camicia Non lo snellisce affatto No Non è catuta Credo Infatti inquadra la faccia Guarda che inquadratura è Non l'abbiamo mai vista Con l'inquadratura là Abate la faccia Eh sì Per questo che lo otterremo Grandissimo Ignazione Nazionale Guardalo Sappiate che per noi È importantissimo Avere giocatori Con la loro faccia Personalizzata Perfetto Somigliante Alla realtà L'avevo dato per scontato Ma dall'altra parte Immagino che anche Tutti voi giocatori Saprete Ma non a tutti Interessa Incredibilmente A quanto pare Tipo a me Non fregava un cazzo Ma non è vero È importante L'ho offerto pochissimo Infatti c'è Irretito Procuratore Ha una faccia furba Questo Iniezione L'allenatore anche No vabbè L'allenatore Una faccia tronfia Ah tronfia Ok Non avrei saputo usare Aggettivo migliore Esatto Neanch'io Infatti ho detto tronfia Va bene così dai Sì dai Non stiamo qui troppo A tirare la corda Con il capitano Abbiamo guadagnato Un po' di ingaggio Tutto sommato Poi Beh Bacayoko Sono in prestito E che sì Sono in prestito Sono gli unici In prestito Sì Che sì In prestito Quindi Perché nella realtà In prestito Con diritto di riscatto Quindi per loro Mi prevede Il diritto Mi piace tanto Questo gioco L'anno prossimo Perché mettere Diritto di riscatto Facciamo FIFA Street Molto più senso E il tempo Il meteo variabile Esatto Bertolacci Grande Alla faccia Molto somigliante Gli ha offerto Meno anni di quelli Che voleva E ha accettato E Bertolacci C'ha accettato Qualsiasi cosa Esatto Vuole anche meno In gaggio Di quello che aveva 77 Bertolacci Beh ha rinnovato a meno Ci può stare Beh ci sa sì Alla fine Oltre che A non perdere I giocatori da zero A non svenderli Riusciamo anche A guadagnarci Un pochino Di stipendio Dai vari Granelliamo qualcosa Abbiamo disattivato Comunque La prima finestra Trasferimenti Per familiarizzare Un pochettino Perché non ho idea Di chi sia forte E chi no In questa squadra Esatto Però Nel frattempo Potrebbero comunque Farci qualche offerta Che valuteremo Volta per volta Sì Tipo un tolivo Vuole essere importante Bello è Dio Quella faccia Alla faccia Che questo sia la stessa La FIFA 99 È sempre uguale Non te lo dico Capitan giovane Proprio È un po' l'appellativo Che tutti Con cui tutti lo chiamano Esatto Va bene 62.000 Abbiamo rinnovato Anche questo C'è Grandissimo Cristianone Zapata Sì Non commettiamo Gli stessi errori Che il Milan In realtà Ha commesso Volevo iniziare La trattativa Parlando del ruolo Di Zapata Nel club Ma Non perdiamo tempo Direi No infatti Passeremo È una promessa Per noi Ma è di turn over Vuole essere importante Importante Perché la connessione Di serverie Si interrotta Ma Ci serve la connessione Di serverie Cerchiamo di fare Rapidamente Questa parte Che sappiamo È molto noiosa Splettiamo Un po' di formalità Dai Zapata Zapata Dai tu sai Che sei molto importante Per noi Nonostante Nella foto Tu abbia la maglia Probabilmente Del cruzeiro Però In cui hai militato Negli anni 80 Esatto Mi piace come giochi A ribasso Zapata Tu si che hai capito Il trend del Milan Comunque abbiamo 272 mila Di stipendi Che non è tantissimo E neanche pochissimo Tutto sommato È chiaro che Se vuoi giocatori forti È difficile Perché il Milan Ha bisogno Eh ora Ti dico che Voglio Per vincere la Champions Devi avere dei giocatori Invincibili Te lo dico già Dovremmo spendere Allora molto Su singoli giocatori E prendere pochi giocatori Alla volta Esatto In particolare Io ti invito già A pensare a Dei giocatori In particolare Che secondo me servono Principalmente Una punta Perché con Piotek Non credo che possiamo Vincere la Champions No Un esterno a sinistro Io avevo preso Sané E dico Lo riprenderei A costicchia Eh beh da parte Era più o meno Ne compri uno all'anno Costa sui 100 milioni Mi piacerebbe Uno dei due Del Liverpool Sinceramente Mi piaceva Firmino Può giocare esterno Firmino No Credo da giochi Centrale Però è bassetto Beh oddio Neanche troppo Vabbè intanto Lì noi abbiamo Jose Mauri Giusto per dare Una sferzata Al nostro campionato Un tocco più Jose Alla nostra carriera Esatto Guarda che Jose Che è questo allenatore Caged man Esatto Mauri assomiglia di più a Schlacker Esatto Intanto è rappresentato Da un Da un Orientale Ah sì Perfetto Orientiamoci Verso quello che 43 mila Per il nostro Simpaticone Di Esatto Di Jose Mauri Ma io rilancio A ribasso Va bene Che ricordiamo Quest'anno Ha giocato una partita Quando Baccaiocco Non voleva Saper Rietro di campo Esatto E non ha neanche Proprio sfigurato Dai ho visto Giocatori peggiori Ci sarebbe anche Il buon Felicioli Ma non è possibile Rinnovarlo Finché in prestito Quindi Rischiamo di perderlo D'altra parte Guarda che È un rischio Che sono disposto A correre Non so perché 20 anni 65 Con un valore 850 mila Che abbiamo fuori Poi Questo lo metto Già in prestiti Lì sta prestiti Sì se riusciamo A farlo crescere un po' Visto che ha Solo 18 anni Ah possiamo anche Ragionare già un attimo Su chi metterà in vendita Se abbiamo già qualcuno Che sappiamo Che probabilmente venderemo Sì tipo Antonio Donnarumma Che abbiamo appena Rinnovato per vendere Vabbè Antonio Donnarumma Quindi sì Purtroppo anche Pepe Perché Sai che Reina potrebbe ritirarsi Da un momento all'altro Esatto Ha questo vizio Di ritirarsi in preghiera Da un momento all'altro Calabria No Abate Abate no Allenarlo in difesa E non dà molte garanzie Come terzino Io avevo preso Bellerin E era forte Forse Nomi interessanti Ok Musacchio dicevamo Musacchio Io finché non lo provo Non so Dirti dei tre Centro Strinic Strinic Lo metterai in vendita Non posseriamo Perfetto Ok Bacchio Costa 20 milioni Potremmo riprenderlo Se non gioca male Valuteremo Montolivo Montolivo Lo metterai in vendita Io Non so Ma Per l'età che ha Può essere anche utile Sì ma Non è detto che te lo chiedano subito Io lo metterai Intanto Metiamo Lo valutiamo Biglia Sicuramente in vendita Come avrete dedotto Siamo dei grandi fan di Biglia No vabbè Abbiamo Cavagnera Uh Me lo ricordo questo uomo E L'hanno aggiunto questo Perché non c'era una volta Cavagnera Andrea Conti è solo 75 Sì Infatti ti dicevo Non è molto forte Secondo me Come terzino Io Lo tenevo come giocatore extra Ma non è Un giocatore su cui punterei Sinceramente Ho paura che sia uno di quelli esterni Che nel nostro modulo Non può fare la differenza Perché non è Né un esterno basso Né un esterno alto È un po' più o meno Uguale anche Castilleco Te lo dico Eh perché puoi fare anche il cicci Guarda che bello che è Quella sua faccia Ti dico che però Castilleco era molto forte Come centrocampista centrale Quando l'avevo usato io Però poi non so se Ma ce lo ha il ruolo Ma lo riproveremo Perché adesso non è che È nostro questo? Sì Ok Conti cosa facciamo? Conti lo metterei in vendita Io Vanno che ha già 24 anni Va bene Non ci punterai tantissimo Mi dispiace Uh c'è Alilovic In presto allo standard legi Che gioia Vale così tanto Alilovic? Sì ma non lo vuole nessuno Giustamente Buona avventura No Jose Mauri Ma povero Jose Mettilo in vendita Dai magari qualcuno che Qualche buon animo Che lo fa giocare Bertolacci Bertolacci Senza passare dal via proprio Ok Che sì Non possiamo all'acsalto Eh questo non lo so Dovremmo vedere com'è Questo L'ho provato come esterno attacco Discreto Si può tenere Vabbè Pacchetta Direi no Alla faccia No però Ma ci assomiglia un po' Non è fatto male dai A parte che gli occhi da orientale Per il resto ci assomiglia Sì non è male dai Devo fare peggio Suso Che continua a non assomigliarci mai Perché Capisco perché non faccia una faccia a Suso Suso Vabbè Penso che sia forte Suso Cultrone Direi di tenerli Piontech ovviamente Direi di tenerlo Piontech ricordiamolo Che assomiglia più a Umberto Schwarzenegger A me ci va la faccia E sarà forte Anche temo questo qui Non è male Se è come una volta Borini ha la faccia Può essere un giocatore utile In quanto derivante dal Io lo venderei subito Se ho detto Tu non sei il grande stimatore Infatti Mettiamolo in merita dai Non posso Perfetto Ok Hakan Capitano Ha una sorta di faccia Però sembra un vampiro Sì E poi ha dei capelli Un po' particolari Ha una riga qua in testa Che sembra che abbiamo attaccato la calotta Tipo Povero Grande Cianoglu Quello che ha Qualcuno Basta Ok Come li disponiamo Beh a me questo modulo Sinceramente ci sta Proviamo Che non c'è un'avventura Tipo Titolare Per esempio E dove potrebbe giocare Ok Molto spregiudicati Come centrocampo Beh abbiamo Baccaio Co Cioè se vogliamo essere Spregiudicati come centrocampo Potremmo valutare Un 4-2-3-1 In modo da far giocare Il buon Pachetà Dove nel ruolo Che dovrebbe essere il suo Ma possiamo anche provare così Un attimo E vedere come va Sì dai ci può stare Penso che faccia anche Il centrocampista centrale Sì una punta forte Ci servirebbe Perché effettivamente Piontek ha 79 Piontek potrà essere valutato Se è forte o non forte Quanto può crescere E quanto può valere Partiamo Dai Prima partita di Coppa Internazionale Europea Perfetto Grazie a tutti Grazie a tutti